Quella del ponte è una telenovela che deve finire ormai, è durata anche troppo tempo, lo abbiamo detto al Vice Ministro per le Infrastrutture affinché riferisca a Roma, Calabria e Sicilia abbiamo deciso di dover mettere al centro di ogni azione politica l'apertura del cantiere per questa infrastruttura, il progetto c'è già, è stato approvato, ha superato tutti gli ostacoli, il governo ha voluto allora aprire un contenzioso, si componga il contenzioso, si riapre il cantiere, si realizzi un'opera che serve per dare alla Sicilia e al Mezzogiorno d'Italia la naturale collocazione nel bacino euroafrasiatico, siamo stanchi di essere periferie d'Europa e per diventare appetibili qui al centro del Mediterraneo abbiamo bisogno di una grande infrastruttura che ci consente di portare da Berlino sino a Palermo l'alta velocità di cui l'Europa parla sin dal 2003.